Io un'altra settimanina l'avrei anche fatta a poter lavorare con la squadra in regime però questo non vuol dire che non sappiamo che non siamo pronti per domani, anzi siamo prontissimi e abbiamo qualche defezione, qualche punto di domanda, è inutile fare pretattica io non è che la posso fare qualche volta ma certe volte sono evidenti Bacio Terracino non è ancora in condizione, verrà in panchina, spero che possa essere l'arma importante nel secondo tempo un paio di giocatori non nelle migliori condizioni, Fratangelo e Amadio e quindi insomma in questo momento la situazione è questa in più bisogna metterci qualche giocatore che speriamo che il mercato ci porti perché non ho più parlato di mercato e non parlo neanche adesso, lo avete fatto voi giustamente insieme alla società, sempre coesi e uniti, sappiamo, ho letto spesso quello che manca e l'avete azzeccato e quindi sicuramente domani è partita difficile come tutte le partite affrontiamo una squadra che ha vinto il campionato alla grande lo scorso anno ha 7-8 undicesimi quasi lo scorso anno, quando vinci un campionato di D così sei all'altezza hai fatto dei ottimi acquisti, ho visto l'ultima partita, è stata una partita bugiarda persa 4-0 con la Triestina, hanno creato molto e sbagliato molto quella prima col su tiro al 3-0, questo in tutte e due le gare che ho visto è una squadra che attacca molto, una squadra che predilige la fase offensiva attaccando con molti giocatori e dobbiamo stare molto attenti a difenderci bene e nello stesso tempo abbiamo preparato come partita delle ripartenze immediate perché magari lì possiamo fargli male quello che mi interessa domani è l'aspetto mentale e nel riferimento a quello tattico abbiamo lavorato veramente tanto in un particolar modo e spero veramente che possa succedere questo sappiamo che vogliamo abbassarci leggermente come baricentro perché loro attaccano in molti quindi non possiamo cercare di andare a pressarli molto alti perché altrimenti prenderemo delle infilate notevoli quindi abbiamo lavorato nel stare leggermente più bassi e ripartire velocemente ecco mi aspetto questo, poi che possa succedere o meno qualcosa di positivo non lo so però se già mentalmente sono predisposti vuol dire che hanno recepito, abbiamo lavorato bene in settimane quindi anche per me in futuro può essere una buona cosa sapere che giocatori, che uomini ho di attenzione e di qualità per cercare di essere pronti ad ogni evenienza qualunque avversario andiamo ad affrontare fino a domani io mi confronto con il nostro preparatore dei portieri ci mancherebbe, dopo sono io a decidere in base a certe circostanze in base anche agli avversari andiamo ad affrontare è una squadra non con grande struttura quindi ho bisogno di un portiere reattivo ecco in teoria domani quindi in base anche a quello dovrò anche scegliere ma in base a tante cose, in settimana si allenano bene tutte e due non posso dire che uno è meglio dell'altro, è peggio, è tutto stanno lavorando bene, sono contento è logico che alla fine devo fare una scelta come tutte le cose però insomma quello che dicevate voi anche, non solo voi, quel tantamma rimane quindi vedremo cosa succederà